Dylan Dog 451 Terra Funesta Parliamo insieme dopo la sigla Bentornati su Nomamamazzo e bentornati nella rubrica fumetti e nella rubrica Dylan Dog serie regolare Parliamo oggi del numero 451 dal titolo Terra Funesta Con la storia di Dario Sicchio e con i disegni di Riccardo Torti Alle copertine sempre i Cerstaro Bradars Allora prima di iniziare volevo dire due cosette al volo Non so se avete notato gli ultimi miei due video Scusate non proprio l'ultimo video che è stato quello su Ghostbusters Ma gli ultimi miei due video che hanno una cadenza mensile Mi sto riferendo agli altri della categoria fumetti Quindi Samuel Stern e Kalia Ho cercato di farli come shorts Sperando che mi occupassero meno impegno, meno tempo Che ultimamente se non avete capito scarseggia un po' A fronte però di un numero di visualizzazioni uguali o se non superiori Dal momento che questo esperimento non ha funzionato Questo video di Dylan Dog lo faccio ancora in modalità classica Quindi in modalità orizzontale cercherò di parlare meno del solito Perché comunque ho pronto una recensione molto breve Però ecco volevo un attimino chiarire questa cosa Magari farò anche una versione shorts La farò magari per altri Lidi Quindi per Instagram, per TikTok magari Però qua a questo punto cerco di vedere se va un video lungo Ma non troppo lungo Ecco vorrei capire che cosa volete da me Fondamentalmente Quindi aspettatevi magari da qui fino a settembre Una sorta di irregolarità in queste cose Nel senso che prenderò delle vie Farò degli esperimenti per capire qual è la strada migliore Per me, per il mio tempo, per la mia passione E per voi che la fruite E per venirsi incontro Proprio anche per questo ultimamente sono stato fuori tempo massimo Con le recensioni come il caso di questa recensione Che però potete già trovare da una settimana abbondante Anzi da più di nove giorni La potete trovare su Instagram per iscritto Quindi ecco cercherò un attimino anche di accorciare questi tempi Perché vedo che ha un senso arrivare un attimino prima Soprattutto su Dylan Dog Chiusa, parentesi, noiosa tecnica sul canale Parliamo del fumetto Terra Funesta Molti lo hanno descritto come un ritorno alle vibes Alle vibrazioni, alle tinte sclaviane Un numero che ricorda moltissimo La scrittura Di Tiziano Sclavi Personalmente non sono Totalmente d'accordo Non sono neanche in totale disaccordo Diciamo che Chi lo giudica Un numero sclaviano È perché sicuramente ricorda numeri sclaviani Surrealistici Come mi viene da pensare la stessa Morgana Mi viene da pensare Golconda per esempio Sono tutti numeri molto surreali La quinta stagione ha anche numeri Dove non si capisce se il lettore stesso Sta sognando o sta vivendo Una lettura nel mondo reale E per questo aspetto devo dire sì È vero Ha delle tinte un po' sclaviane Il numero sembra sconnesso Volutamente in alcuni punti Non si capisce Di preciso che cosa sta succedendo Non lo si capisce fino alla fine E probabilmente nemmeno con la fine Completa Compresa alla fine Non si capisce molto Dylan Dogg e Graucio O forse solo Dylan Dogg Anche qua non è molto chiaro Si avvicendano in un viaggio Che sembra portarli su due dimensioni diverse La dimensione reale Che è quella dove poi sta anche Block E la dimensione dell'incubo appunto Dove pare ci siano Dylan Dogg E un ipotetico Graucio Molto molto carina questa idea Anche qui ho avuto un po' la sensazione Che 96 pagine non bastassero Perché mi sembra che sul finale Si dia un'accelerata E una tagliata abbondante Su quello che queste sensazioni surrealistiche Queste sensazioni oniriche Potevano darci ancora Per una buona ventina Trentina di pagine E un 126 pagine Gliel'avrei dato a questo numero Che se lo meritava Se tanto è così decantato Dai lettori Perché va bene essere In una dimensione onirica In una dimensione surreale Va bene che questa cosa può Fare di necessità virtù E quindi uno dice Vabbè ok tagliamo un po' qua Un po' là Un po' di più Perché magari tanto è già così È già un po' strano Magari non si nota Però io un pochino L'avrei preferito Un po' più dilungato Nel finale Mi sarebbe piaciuto Non per forza Una dilungazione in spiegazioni Però un'altra decina di pagine Strambe L'avrei gradite Assolutamente E è qui che mi trovo in disaccordo Col discorso È un'opera sclaviana Ora I numeri di sclavi Ma in generale I numeri di quegli anni Avevano una firma specifica Dei Dylan Dog Che era in un certo senso La lentezza La lentezza dovuta sia Ai dialoghi Che riempivano totalmente Le vignette Che rendevano più lunga La lettura E sia proprio Al ritmo della storia Che era molto più Spalmato Sulle 96 pagine Qui addirittura Invece abbiamo Oltre a una regia Molto veloce Molto recchioniana Se vogliamo dirla Se vogliamo dirla tutta Che che ne dicano Quelli che Dicono che questo numero Sia sclaviano Io ci ho trovato Una regia Recchioniana Una regia velocissima Tant'è che tutto È ambientato In un'unica scena Ovvero Da quando Dylan Entra in questo mondo Strano Per indagare Pieno di mostri Alla Cronenberg Fino alla fine Della risoluzione Del caso È un'unica scena Poi magari Nella realtà Ovvero nella Storyline Con Block Passano più giorni Ma la storia principale Sembra dall'inizio Alla fine Sembra che la viviamo Dall'inizio alla fine Insieme a Dylan e Grau Cioè questo contribuisce A far leggere Il fumetto In modo A avere la sensazione Di leggere il fumetto In modo Molto più veloce Io a un certo punto Ho guardato in basso Ho letto che ero A pagina 44 E non era Tra virgolette Non era successo niente Cioè eravamo nel vivo Della storia Ma non si era ancora Entrati nel Nel clue Non si era nel secondo atto Nel terzo atto Non si era nel secondo tempo Se volete avere Un termine cinematografico E 44 È più o meno La metà Di un numero Di 94 pagine E mi ha fatto Molto strano Infatti poi C'è stata questa Accelerata Finale Che Non lo so Avrei preferito Godermelo di più Proprio perché Il numero è bello Cioè io sto Facendo la punta Alla minchia Per queste cose Proprio perché Il numero mi è piaciuto Mi è piaciuto anche Nei disegni I disegni sono Molto innovativi La griglia Pur essendo classica Ha delle Trovate geniali Come la scena Delle scale Con Groucho e Dylan Ma anche Delle Delle fuori griglia Spettacolari C'è questa Questo momento In cui Dylan Diciamo Viene assorbito Da tanti piccoli Non da tanti piccoli Dilan Da tanti piccoli Tizi Che lo hanno assunto In questo caso C'è una citazione Quando Groucho Quando Dylan Ha trovato Groucho Per la prima volta Nel baule Poi c'è questa fantastica Doppia splash page Ragazzi Ma di che cazzo Stiamo parlando È un numero Molto Molto Bello Ma non è Dalle tinte Sclaviane Non è dalle tinte Unicamente Sclaviane Ma devo dire Che forse Hanno raggiunto Una quadra Hanno raggiunto Forse qualcosa Che può mettere D'accordo Vecchi lettori E nuovi lettori E di conseguenza Non permettendo Mai più a noi Youtuber Che fanno video Su Dylan Dog Di fare views Perché ormai Stanno accontentando Tutti E nessuno Guarda più i video Non so se ci fate caso Che da quando Non c'è più recchioni I video su Dylan Dog Sono a picco Perché? Perché nessuno Va più in rete A lamentarsi De Dylan Dog A quanto pare Sta piacendo a tutti Che c'è? E insomma Questo numero Mette d'accordo Gli amanti Dei vecchi Dylan Dog Con questi numeri Un po' onirici Un po' surreali Che spiegano Tutto e niente E quindi tutti Ci trovano Il significato Che vogliono Non troppo chiaro Non troppo spiattellato Sia mai che non Metta d'accordo Qualcuno Come erano Le storie invece Di Recchioni Tutto molto Fumé Però con una regia Con una scrittura Molto giovane Molto 2024 Che può prendere Dei nuovi lettori Attenzione però Con nuovi lettori Io non intendo Adolescenti Perché gli adolescenti Leggeranno sempre i manga Non li togliete Finché non fate Il manga di Dylan Dog Dove se volete Mi offro Per sceneggiare A meno che non fate Il manga di Dylan Dog Gli adolescenti Non leggeranno Salvo rare eccezioni Dylan Dog Come prodotto Mainstream Per adolescenti Potrebbero Affacciarsi I giovani Ovvero Quella fascia d'età Che va dai 18 Ai 30 anni Una persona Di questa fascia d'età Magari Che prende il treno E legge E prende l'abitudine Di leggere Dylan Dog Prendendogli un edicolo Prima di andare in stazione Potrebbe essere Un nuovo lettore E io punterei A quella fascia d'età Però ecco Sarebbe figo Se Dylan Dog Si Spargesse di nuovo Anche in una Fascia d'età Un po' più Un po' più giovane Magari Puntando al Color Fest O appunto Facendo qualche manga Su Dylan Dog Sarebbe carino Niente Comunque in sostanza Questo numero Mi ha soddisfatto molto Al punto che A parte queste puntualizzazioni Non ho nulla Da eccepire E non vedo l'ora Di leggere il prossimo A questo punto Che se non sbaglio Si chiama Andiamolo a vedere Un tranquillo Venerdì di paura Ci sta Ci sta Classico Titolo horror Pare che ritorni La Treykovski Io la sto aspettando La Treykovski Dalla famosa trilogia Di Recchioni Post Meteora Che mi ha tenuto Incollato Dylan Dog Finora Chissà se forse Questa è la volta buona Che vediamo La trilogia Dalla Treykovski Ma non credo Sarà una storia Semplicemente Suma da Treykovski E via Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Di questo numero Qua sotto nei commenti Io come sempre Vi ringrazio Per aver seguito Fino al fine del video Con l'inchino E con l'imbuto Vi saluto E vi dico Arrivederci Al prossimo video Treykovski E vi dico Treykovski E vi dico Grazie a tutti